La freccia non deve entrare in questo triangolo perché sennò è una zona morta, cioè siamo contro vento, praticamente le vele, io adesso lo faccio, guardate le vele cosa succede, io vado contro vento, a un certo punto la vela inizia a fileggiare, si scusa, si scarica, le vele non tolmano, dasperimento, volめて questo punto di tornare alla fine, non posso riconoscere, si scarica la voce, le vele ma contro vento e senza volerci mai cosa faccio.